Prendere in considerazione la possibilità di mettere a disposizione dei rifugiati dell'Ucraina la struttura dell'ex centro Natascia Rione Lucania a Potenza. E quanto chiede in una lettera al Presidente della provincia di Potenza Guarino il Consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Leggeri che ha fatto pervenire questa richiesta anche al Presidente dell'Aggiunta regionale Bardi, al Prefetto di Potenza Campanaro e al Sindaco di Potenza Guarente. La Regione Basilicata, dice, potrebbe fare la sua parte mettendo a disposizione delle risorse per recuperare e rendere agibile lo stabile di Piazza Gianturco. Pochi interventi, dato che l'ex centro Natascia ha già ospitato in passato madri nubili e bambini. Da più parti istituzioni pubbliche ed organizzazioni umanitarie, conclude, si stanno mobilitando in favore della popolazione ucraina. Molti amministratori comunali hanno con impegno e generosità avviato la macchina dell'ospitalità con punti di assistenza sul loro territorio, grazie al sostegno dei cittadini. La provincia di Potenza potrebbe dimostrare il suo pragmatismo in un momento tanto delicato quanto triste.